Musica Un ben ritrovati cari telespettatori e telespedatrici anche con A voi la linea. Stamattina il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli è stato a Martignacco per visitare lo stabilimento iVision Tech rilevato il 2 ottobre dalla società della famiglia Fulchieri. In una conferenza stampa ha parlato del piano industriale per il rilancio dello stabilimento. Lo ha intervistato per noi Isabella Gregorato. Ministro nella sua visita qui nello stabilimento ex Safilo di Martignacco lei ha puntualizzato che effettivamente ci vuole lucida follia e ci vuole coraggio per ridare vita, per convertire un'azienda che ormai sembrava giunta agli ultimi giorni. Certamente se in qualsiasi periodo degli ultimi dieci anni qualsiasi imprenditore per investire aveva bisogno di coraggio oggi ha bisogno anche di lucida follia perché in piena pandemia fare investimenti è una cosa veramente che va segnalata come cosa importante per il territorio dove ciò accade. In questo caso la famiglia Fulchieri ha avuto il coraggio di investire in produzioni nuove riprendendo l'eredità di uno stabilimento che su questo territorio insiste da tantissimo tempo e questo è un bene anche perché gli investimenti non sono piccoli, le persone coinvolte non sono poche. Quindi un comune piccolo come Martignacco che ha avuto la possibilità di attirare anche da altri comuni la forza lavoro continuerà a esercitare questo ruolo centrale nel tessuto economico e industriale della provincia di Udine. E anche proprio per questo caso di Martignacco il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fatto la sua parte insieme alle amministrazioni regionali e locali per poter recuperare il sito produttivo. Beh assolutamente sì, intanto ringrazio il sindaco Casali che ha dimostrato vicinanza alla propria cittadinanza, alla propria gente. Il Ministero per lo Sviluppo Economico cerca sempre di fare la sua parte e la fa quasi sempre, poi non dobbiamo dimenticarci che molte crisi nascono perché sono crisi di mercato, il composto della politica non è che può fare tanto quando c'è una crisi di mercato, può dare gli strumenti a chi vuole investire per accompagnare quell'investimento ed è anche in questo caso ciò che stiamo cercare. E' anche nella nostra regione chiaramente sindacati, lavoratori preoccupati perché c'è la possibilità che non ci sia più questo blocco per quanto riguarda i licenziamenti. Addirittura i sindacati hanno fatto una valutazione, potrebbero perdere posto di lavoro 5-6 mila persone solo in Friuli, Venezia e Giulia. Verso che direzione sta andando? Perché mi pare di aver capito che lei abbia detto praticamente una volta che si sblocca basta, cioè una volta che finisce il blocco basta. Guardi, io ho risposto a una domanda in una trasmissione nota, trasmissione televisiva in cui ci si chiedeva sul blocco dei licenziamenti la cassa Covid che in questo momento è ancora valida per tutti i settori produttivi e per tutte le aziende, quindi nessuna azienda può licenziare in questo momento, se non per cessazione. Questo è un elemento che non può essere prorogato così com'è. E' chiaro che chi ha ancora bisogno di cassa integrazione a causa Covid deve poter utilizzare e allora in quel caso non può licenziare. Chi però è uscito dalla necessità di cassa integrazione può avere gli strumenti ordinari di riduzione del personale come sempre stati, perché non è che la mattina si sveglia e l'azienda licenzia chi vuole, ovviamente. Questo è il ragionamento da fare in questo momento perché io non credo che buttare soltanto la palla in calcio d'angolo possa servire. E noi stiamo lavorando perché nella legge di bilancio, nel recovery plan ci siano da subito degli elementi di accompagnamento e di protezione del lavoro, di politiche attive sul lavoro, di investimenti e quindi di defiscalizzazione degli investimenti per gli imprenditori che vogliono investire, proprio per evitare che si arrivi alla necessità del licenziamento. Ma non è mettendo un blocco che si evita che poi l'azienda licenzi. Ecco però c'è la preoccupazione soprattutto nelle piccole realtà produttive di non avere anche i soldi per liquidare eventualmente il personale. Certamente questo è un altro tema, è ovvio che non possiamo mettere sullo stesso piano la grande produzione industriale, la manifattura che ha ripreso, che sta lavorando con la piccola impresa, però bisogna dare a entrambi le possibilità di fare il percorso necessario per mantenere l'attività perché il problema qual è? È che non vorrei nemmeno mettere degli elementi che portino le aziende a chiudere perché altrimenti non stanno in piedi. Quindi questa è la cosa più importante. Forse è meglio pensare di accompagnare una riduzione piuttosto che la chiusura totale dell'attività produttiva. Un'ultima domanda sul lockdown, è possibile? State pensando come lo articolerete, se lo articolerete? Stiamo predisponendo tutti gli elementi necessari per evitare che ci sia un lockdown generalizzato, è già evidente nell'ultimo DPCM. Ciò che voglio ribadire è che le attività produttive non hanno comportato mai un aumento del contagio, grazie ai protocolli firmati responsabilmente dalle parti datoriali e dalle parti sindacali che vanno assolutamente ringraziate per ciò che hanno fatto in questo percorso, si è trovato il modo di poter lavorare proteggendo i lavoratori e proteggendo gli imprenditori. Questo è certamente un elemento fattuale. Quindi attività produttive continueranno ad andare avanti? Assolutamente sì, l'importante è monitorare ovviamente la curva dei contagi e predisporre tutte quelle misure che ci consentono di abbassare quella curva. Grazie alla nostra Gregorato che ha intervistato il Ministro per lo sviluppo economico Patto Anelli e si trova appunto a Martignaco assieme a Martina Beraldo. Il virus potrebbe costringerci a trascorrere le feste natalizie cercando di limitare i contatti con i familiari. Il rischio paventato dall'infettiveologo dell'ospedale di Pordenone Massimo Crapi. Se un lockdown potrebbe risultare necessario se la curva dei contagi non si abbasserà? Massimo Crapi, sinfettivologo, responsabile del reparto di malattie infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Tanti suoi colleghi temono un lockdown per Natale a causa del coronavirus. È un timore fondato? Precisiamo subito che quando si parla di lockdown ovviamente si parla di una decisione che implica delle motivazioni scientifiche però poi chiaramente anche dei provvedimenti politici. Quindi non posso dire se realmente ci sarà un lockdown o meno. Diciamo che quello che possiamo dal punto di vista scientifico dire i dati ci fanno vedere un preoccupante incremento dei casi. E quello che ci ha dimostrato il precedente periodo è che il lockdown è stato efficace sicuramente. Quindi se non riusciamo in altro modo, restringendo un pochino nel senso di aumentare l'attenzione nei confronti dell'applicazione delle norme che poi sono molto semplici perché ricordiamo la cosiddetta triade magica dell'indossare la mascherina, del lavaggio delle mani e del distanziamento di almeno un metro rispetto alle altre persone nella maggior parte dell'attività, se questo incremento di attenzione da questo punto di vista non dovesse essere sufficiente, purtroppo è ovvio che altri provvedimenti più drastici debbano essere presi in considerazione. Possa essere un lockdown globale o dei provvedimenti di simil lockdown ma più circoscritti in base alle zone, forse più auspicabile, se posso permettermi una considerazione non solo scientifica ma anche diciamo economica del paese, forse questi provvedimenti potrebbero essere necessari. Attualmente la stragrande maggioranza dei contagi non avviene fuori dalle mura domestiche ma proprio all'interno della famiglia e a Natale le feste e i raduni familiari sono la norma, cosa dobbiamo aspettarci? L'essere la famiglia il luogo dove è maggiore il rischio di acquisizione dell'infezione ci conferma una cosa importante che cioè il contatto stretto è quello realmente a rischio, quindi non un contatto diciamo più sporadico ma proprio un contatto stretto e dall'altra parte ci conferma implicitamente che la triade di cui parlavamo prima in realtà è assolutamente efficace perché evidentemente abbiamo abbassato ulteriormente la percentuale di persone che si infettano in altro modo. Dall'altra parte purtroppo effettivamente lo spauracchio della limitazione dei contatti familiari, questo c'è, abbiamo purtroppo già vissuto una Pasqua da separati con molti familiari, direi che ci sia o meno un lockdown, forse il Natale è da pensarlo in maniera molto ponderata con i familiari e magari trovarsi a, tra virgolette, piccoli gruppi mantenendo il più possibile un rigore nei rapporti familiari nonostante siamo in famiglia. Dire proprio di non vedersi chiaramente a livello sociale sembra una cosa molto difficile da fare. I contagi sono tra le muore domestiche ma come sono entrati? Probabilmente stiamo pagando l'onda lunga, tra virgolette, cioè la catena di contagi che è iniziata ad agosto, fine agosto, con la movida, con le ferie e quindi tendenzialmente con i giovani. Giovani, infatti l'età media a fine agosto, primo settembre era 30 anni dei contagiati, quindi questo ci faceva anche spiegare come l'importanza clinica, quindi i ricoveri e terapia intensiva e ovviamente ancora meno decessi, fossero pochi. Purtroppo probabilmente in famiglia questi giovani hanno portato il virus a genitori e nonni e quindi adesso registriamo un'età media di 56-58 anni e quindi purtroppo poi consensualmente un incremento dei ricoveri sia in reparto normale sia in terapia intensiva. Lei si aspettava che l'emergenza sanitaria potesse arrivare così presto? Mi aspettavo che potesse arrivare, sinceramente io temevo e vedevo che c'erano le possibilità perché un secondo picco, diciamo così, ci fosse e purtroppo sta avverandosi, anche se non sappiamo ancora a che portata avrà questo secondo picco. Sinceramente in effetti poi è un po' prestino rispetto a quello che io avrei previsto, sinceramente pensavo che almeno si presentasse tra metà e fine novembre, però ripeto probabilmente paghiamo le conseguenze di un contagio che è iniziato tra fine agosto e primi di settembre, quindi è iniziato con la tranquillità forse eccessiva che abbiamo vissuto in vacanza e quindi poi le conseguenze epidemiologiche si stanno ripercuotendo adesso. Bene, adesso noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e poi riprenderemo con un collegamento, un rapido collegamento con la nostra Paola Treppo che sta seguendo la conferenza stampa in questura per le misure in vista del passaggio del Giro d'Italia e con tutte le limitazioni alla viabilità. A tra poco. Seconda parte di A voi la linea, si avvicina a grandi passi il passaggio del Giro d'Italia nella nostra regione, è in corso se non si è appena conclusa una conferenza stampa in questura dove sono stati spiegati quali saranno le misure in vista del passaggio del Giro. Dovremmo avere in collegamento la nostra Paola Treppo che si trova nella sede della Polizia di Stato di Viale Venezia a Udine. A te Paola. Sì Daniele, buongiorno anche ai nostri telespettatori. La conferenza stampa è ancora in corso con il signor questore Emanuela De Bernardini e con il dirigente della Polizia Stradale dei Ruosi. Saranno impiegati moltissimi uomini non solamente della Polizia di Stato ma anche carabinieri guardie di finanza, le altre forze dell'ordine con il supporto di tanti volontari della protezione civile. Sono stati spiegati in dettaglio tutti i punti del traffico che saranno critici. L'impegno delle forze dell'ordine sarà massimo. Si raccomanda fin da ora di rispettare i punti in cui è possibile stazionare per vedere il passaggio del Giro, di non lanciare acqua ai corridori e di rispettare le regole anti-Covid per permettere agli operatori di polizia che saranno impegnati sul posto e ai ciclisti e quindi a tutta la macchina del grande giro di svolgersi in maniera sicura per tutti quanti. Adesso Daniele io continuo qui a seguire la conferenza stampa e dalla questura ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo. Come vi dicevo, domenica arriva al Giro d'Italia con la speciale partenza da Rivolto e l'arrivo a Piancavalo. È la sfida più difficile di questi 18 anni. Certo Enzo Cainero, faremo di tutto per far sì che anche la tappa di martedì si possa correre e si arrivi a Milano. Quella del 20 è una delle più belle che ho disegnato. È definita una classicissima della friulanità. Ha intervistato Enzo Cainero, la nostra Francesca Spangaro. Enzo Cainero, ormai ci siamo, ma questa è una sfida, credo che non si aspettasse mai di vivere così in maniera impegnativa. È la prova più dura? Sì, è più della più dura, non c'è dubbio. È la più dura di questi 18 anni. Forse così intensa e emotivamente violenta è stata però per una notte il discorso del Crostis, ma organizzativamente questa non ha paragoni, non ha raffronti. Ogni giorno ne nasce una e soprattutto c'è un aspetto fondamentale. Si lavora nell'incertezza assoluta. Non sai se andare avanti, se fermarti, se continuare, ma la cosa più importante è motivare le popolazioni. Le popolazioni devono credere che questa operazione si faccia per l'interesse della Regione. Se la facciamo avremo ancora più attenzione. Sono sempre stato un ottimista, però giustamente preoccupato. Questo sì. Molto dipenderà da Udine nel giorno di sosta. Ci saranno i tamponi, ma intanto parliamo delle cose che sì faranno. Partiamo dalla prima tappa, che è quella attesissima. Sarebbe stata comunque una prova super impegnativa. Non sarà come l'avete immaginato, ma a che punto sono le cose? Insomma, cosa ci aspettiamo per quel giorno? Sì, diciamo che con l'aeroporto di rivolto, con l'aerobase, ci sono costanti, continui giornalieri, contatti e verifiche, riunioni. Perché voi capite che entrare in una base aerea di questa portata, la prima volta al mondo, con la presenza anche di visitatori illustrissimi da parte di Roma, c'è tutta un'attenzione particolare. Abbiamo fatto un piano, un lavoro quasi di due anni, l'abbiamo buttato via, non è servito. Abbiamo rifatto il piano, l'abbiamo riaggiustato anche in funzione di quella che è stata l'evoluzione continua di questo maledetto virus. Sarà comunque un grande spettacolo, mi auguro che la gente lo apprezzi per quello che abbiamo potuto fare. Certamente mi ha creato un grande problema, ho perso qualche amico perché ho dovuto dirgli no a tanti inviti. Diciamo che in tutta questa vicenda, proprio a confortarci e a darci una spinta positiva, sono le condizioni meteorologiche. Giornata soleggiatissima, straordinariamente positiva per una partecipazione attiva, la dicono così le frecce tricolori. Io so il programma che fanno ma sarà un bel programma corposo. Però dopo subito arrivano i problemi perché lungo il percorso, ieri l'altro, c'è stato uno smottamento su Palabarzana e abbiamo dovuto mercoledì notte prevedere e attivare il percorso sostitutivo. Per cui in questo momento si sta lavorando su Palabarzana per vedere se si ripristina. Altrimenti dobbiamo passare un sabato a tutta una nuova parte organizzativa per l'aspetto sostitutivo. Si fa questo ed altro, certamente un po' ci si stanca. Pensiamo poi all'arrivo Piancavallo, insomma un ritorno sempre gradito. Sì, sì, molto. L'abbiamo riscoperto, io non capisco perché l'avevano un po' messo da parte, perché il Piancavallo ha una grande caratteristica. È una salita autostrada, non è la salita del nostro frioli, della tua carnia, della mia carnia, strette, pieni di problemi. Il Piancavallo è un'autostrada, ha spazio, ha piazzali e diciamo, ma io questo proprio assolutamente non me lo auguro per tutti i motivi, può diventare anche l'etapa conclusiva del giro. Speriamo di no, anche perché poi c'è un altro bello spettacolo da vivere con l'Odine San Daniele. È più bella, io credo che questa fosse la tappa più bella che ho disegnato in questi anni. La classicissima della friulanità. È una tappa di 230 chilometri, bellissima, piena di scoperte, di territori, oltre alle valli di Natisone, alla valli del Torre, alle valli dell'Alto Torre. Ho avuto grande corrisponsione dalle popolazioni. Il paese pui puorse, son e pui tidan, questa è la verità della vita. Ho avuto tante soddisfazioni. Mi dispiacerebbe tanto per loro. Vorrei partecipare al loro lavoro facendo in modo che l'etapa si svolga. Hai un invito finale o un messaggio finale da mandare a questo Friuli che aspetta il giro in queste condizioni decisamente diverse? In tanti anni ci siamo conquistati credibilità, fiducia, stima da parte del mondo dello sport, in particolare quello che vivo io in questo momento del ciclismo. Chiedo di essere ligi alle prescrizioni, al distanziamento, alle mascherine, di evitare eccessi e di dimostrare ancora una volta il Friuli che cos'è. Io so che si stanno preparando grandi momenti di partecipazione. Ce n'è uno in particolare, quando lo vedrete, di cui sono avuto conoscenza in questi giorni, che vuole ricordare i caduti del Galilea sul monte di Muris, che sarà intetturato a salita degli Alpini. Quindi distanziamento, attenzione, viviamo questo momento particolare, sarà un giro d'Italia da ricordare per sempre. Mi auguro, mi auguro di cuore, che chi ha lavorato abbia la giusta soddisfazione dell'impegno profuso. Io, credetemi, l'ho detto all'inizio, non mi sono mai dovuto impegnare tanto in una tappa, in un giro d'Italia come questa. Adesso io vi lascio al libro nel cassetto, poi ci sarà la sigla mandata in onda dal nostro Pierangelo Buttazzoni, la pubblicità e poi il punto di Enzo Cataruzzi. L'ospite di oggi è il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Alla prossima, arrivederci. Buongiorno e ben ritrovati alla rubrica settimanale definita Il libro nel cassetto, angolo dell'autore, di Chiandetti Editore. Oggi assieme a Gabriele, ciao Gabriele! Ciao Elisa e buon dia a tutti! presenteremo il libro Friul de Scullinis Doi, Friuli Collinare II, di Chiandetti Editore di Reana del Royale, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Achille Tellini. Il libro è il decimo volume appartenente alla collana Miti, Fiabe e Leggende del Friuli Storico. Gli altri titoli ora disponibili sono Un vero e proprio patrimonio nel quale possiamo riscoprire l'anima fantastica e poetica della nostra gente friulana. Storie che un tempo venivano tramandate oralmente ai propri figli e nipote e di cui ora rimane una traccia scritta al fine di preservarle dal tempo che scorre. Le ricerche sono state effettuate su zone omogenee del territorio friulano, tenendo conto soprattutto delle varie aree linguistiche. Ad esempio, nel volume che consideriamo oggi, sono state intervistate le persone che abitano nei comuni di Buia, Collo Redo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagania, Maiano, Flaibano, Martignacco, Moruzzo, Ragonia, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagania. I miti vengono riportati nel friulano, con variante locale e dalla relativa traduzione in italiano. Il tutto accompagnato da illustrazioni e fotografie storiche a corredo dei testi. Distris e Distriamens è pieno l'universo popolare, e così pure di maghi, esseri primitivi e diavoli. Un grande rilievo hanno infatti l'is aganis, una specie di ninfe il cui tratto caratteristico è quello di avere i piedi a rovescio. La lista si allunga con l'orco, sempre localizzato in un determinato ambiente, e con il vencul, o chialcut, personificazione dell'incubo notturno. Quando arriviamo alle sezioni dedicate agli spiriti e ai fuochi fatui, i fogoladis, ci troviamo di fronte ad un mondo di proiezione ultraterrena della vita, quasi un intreccio tra visibile e invisibile, tra forze di personaggi evocati dalle tenebre del mistero, eppure radicati nella realtà paesana. La civiltà dei monti e dei campi sfuma in una misteriosa atmosfera di sortilegi e di malefici. Si aggiungano anche le possessioni diaboliche. Decisamente più serena, invece, è la visione dei morti e della notte dei santi. È il ritorno dei trapassati nel focolare, in cui ha palpitato il loro cuore, e dove vibra la vita dei loro discendenti, e la stirpe poi, finalmente, continua. Passiamo poi ai racconti di tesori scoperti o ritrovati, i cosiddetti tesaurs. Troviamo preghiere invocate contro i temporali e i vari agenti atmosferici avversi, le devozioni popolari, le storie dei santi e delle chiese. La trasmissione dei racconti di generazione in generazione permette anche di acquisire frammenti di esperienze storiche realmente accadute, attraverso le quali sono passate le comunità e alcune che sono anche collegate con l'ambiente naturale e quello costruito, come ad esempio nella sezione dedicata ai locs e ai sits riscosse. Possiamo dunque affermare che il confine tra la terra e il cielo, tra il quotidiano e il magico, non esiste. Questo documento mitico e leggendario resterà nel tempo a perpetuare la memoria, la cultura e lo spirito della nostra gente friulana. Vi ricordiamo, infine, anche il progetto Il libro nel cassetto della Chiandetti Editore. Se avete al momento scritto un testo dedicato a fiabe, poesie, un romanzo, la storia di famiglia, un diario di viaggio, potete contattarci e fissare un appuntamento senza impegno presso la nostra casa editrice, Areana del Royale, così da poter curare per voi l'impaginazione, la stampa e la promozione della vostra opera. Si vi odenga le prossime volte, mandi! Buona giornata a tutti! Grazie a tutti!